Buon sabato a tutti e bentornati su Mind the Chart, io sono Dista, al Coin Season in gioco. Sto vedendo molto fervore sui social di una potenziale al Coin Season e posso dirvi che anch'io sono decentemente convinto. Non posso dirvi al 100% perché nessuno può saperlo, però dopo questa approvazione di ETF Spot su Ethereum, apre la strada a una potenziale al Coin Season. Ovviamente mancano ancora dei tasselli che dobbiamo andare a confermare, dobbiamo vedere un Bitcoin che va in Oltemai, Ethereum che va a raggiungere almeno l'Oltemai all'incirca dopo i 4.000 dollari. Quindi mancano ancora determinate cose e non sarà ancora semplice vedere gli afflussi che abbiamo bisogno di vedere su Ethereum. Se andiamo a fare un salto sul nostro Twitter andiamo a vedere un po' qualcosina insieme e poi andremo a fare un po' di analisi, comprese anche le nostre altcoin. Quindi la SEC approva 8 ETF su Ethereum, inclusi quelli di BlackRock, Fidelity e Grayscale e questo ha generato reazioni contrastanti nel mercato. Ovviamente nonostante l'approvazione il prezzo di Ethereum era sceso del 3.5% in quanto la notizia poteva essere già scontata. Infatti avevamo visto un po' di volatilità, però tutto sommato se andiamo a vedere su Ethereum abbiamo ridato un pochettino indietro ma ci stiamo ancora mantenendo abbastanza bene. Lo vediamo meglio sul giorno. Vedete che ci stiamo comprimendo sul giorno. Dobbiamo andare a rompere i 3.948, diciamo i 4.000 psicologici se vogliamo andare a testare almeno il massimo locale dei 4.088. Dopodiché abbiamo l'olte mai e manca ancora all'incirca un 30%. Già nella giornata di ieri, se avete visto il mio video, abbiamo calcolato all'incirca un 30%. E secondo me Ethereum, se tutto va come deve andare, può metterle anche in 2-3 giorni queste percentuali. Ovviamente da qui andare in all time I, rompere il rialzo e trovare nuovi massimi senza una correzione sarà difficile perché già qua andare a fare un 30% comunque è possibile ma secondo me andare a bucare con una lag senza una correzione non sarà per niente semplice. E tra le altre cose Gary Gessler è stato abbastanza ambiguo sul fatto che Ethereum potrebbe essere sì o no una security. E inoltre la SEC potrebbe regolare l'attività di staking. Diciamo che il processo regolamentare della SEC rimane ancora abbastanza incerto poiché le approvazioni per il trading di ETF potrebbe richiedere settimane o mesi. E chiaramente potrebbe succedere come i Bitcoin, i capitali potrebbero entrare ma successivamente. E gli analisti stimano che il mercato prevede afflussi da 15 miliardi a 45 miliardi di dollari nel primo anno con alcuni che si aspettano un rally del prezzo di Ethereum del 75%. Chiaramente Ethereum potrebbe andare inoltre mai. Questo non lo voglio negare. Infatti io sono ancora rimasto un po' in Ethereum perché ho scaricato meno posizioni in quanto quest'anno non è che ha fatto così tanto Ethereum. Se andiamo a vedere il Bitcoin ETF Tracker vediamo che comunque ci sono inflows molto molto interessanti. Stiamo vedendo net inflows per Ibit, FBTC, Hold, BTB, ARKB. Quindi vediamo che ci sono ancora afflussi molto interessanti per quanto riguarda gli ETF su Bitcoin. E sempre rimanendo in tema ETF, stiamo vedendo che Grayscale Investment, un attore importante nella gestione degli asset in cripto, sta affrontando un cambio di leadership con Michael Sonschain che lascerà la carica di CEO il 15 agosto 2024. Quindi manca qualche mese. Dopo un decennio al timone, Peter Mintzberg, un ex dirigente di Goldman Sachs, con vasta esperienza nella gestione patrimoniale degli asset, prenderà il suo posto. Quindi staremo a vedere se poi questo porterà anche un cambio di direzione. Vi ricordo che se volete approfondire un pochettino lato macro, su mindchart.io e su Twitter ci sono un sacco di cose che potete andare ad approfondire. Oggi non andiamo a trattare lato macro, ma se andate su Twitter, mindchart.io, troverete anche tutti i link in descrizione, troverete un sacco di news, diciamo, che fanno un recap di tutta la settimana. Voglio anche ricordarvi di fare un salto su Missione Spazio, il nostro gruppo gratuito Telegram, dove ci sono un sacco di cose. E vi ricordo ancora che manca ancora poco per la promo di Bitcat. Potrete ricevere 200 dollari in premi facendo un deposito minimo di 100 dollari. Inoltre vi diamo anche il meno 30% di scontavita sulle trading fees, ma ogni settimana Bitcat fa un sacco di promozioni sempre attive. Quindi troverete tutti i link in descrizione. Ora passiamo velocemente sui grafici. Bitcoin, che tutto sommato rimane ancora in una potenziale bull flag sul time frame mensile, che verrà solo confermata la lottura dell'olte mai i 74.115, potrebbe succedere. Perché tenete a mente che siamo messi molto bene su Bitcoin. Le carte sono a favore dei bulls. Poi chiaramente tutto può accadere, ma le carte sono a favore dei bulls. Poteva portare Bitcoin a scendere maggiormente se l'ETF su Ethereum veniva negato. Ciò non è accaduto, non ha portato molta volatilità, però questo fa ben sperare. E secondo me gli 80.000 sono in gioco per Bitcoin, ma secondo me per questo turno possiamo raggiungere anche i 100.000 dollari. Quello è il mio target finale. Poi chiaramente possiamo andare anche a un milione. Quello a me interessa poco, sono ben contento. Lascerò sempre una sposizione in Bitcoin, perché credo sia in Bitcoin come tecnologia, ma anche come riserva di valore. Ma però non voglio lasciare gain sul piatto, quindi sicuramente farò exit out ogni volta che andiamo a printare un'olta e mai, fino ad arrivare ai 100.000 dollari. E dopo i 100.000 terrò sempre una posizione swing, perché voglio essere sempre esposto al mercato. Mai uscire completamente, perché se no chiaramente poi non hai il piede in due scarpe e rischi poi di perderti maggiori guadagni. Quindi per Bitcoin siamo ancora in una potenziale bull flag mensile, Ethereum che si sta riprendendo, poi vediamo Ethereum, la Bitcoin Dominance sta lasciando un po' di gas alle altcoin. Poi andremo a vedere qualche altcoin insieme, infatti vediamo che sul giorno abbiamo perso il trend sul giorno. Vogliamo vedere rompere la 200 EMA giornaliera che non vediamo rompere da un sacco di tempo per la Bitcoin Dominance. Cosa interessante vediamo, un Bitcoin che l'alteralizza e la Bitcoin Dominance che scende. E sta lasciando un po' di spazio nel coin, vuol dire maggiore propensione al rischio. Questo ovviamente non basta, serve un Bitcoin in un'olta e mai, serve un Ethereum molto forte che va sopra per formare Bitcoin, serve anche un Bitcoin Dominance debole. E chiaramente ci sono ora le carte in regola per una potenziale coinciso, che ovviamente non è dito le porte domani, ma abbiamo aggiunto un testo di più, l'ETF su Ethereum. E quindi questo viene visto molto molto bene. Ethereum che secondo me potrebbe andare a rompere i 4.000 qualcosa psicologici e potrebbe andare a testare l'olta e mai. Ovviamente staremo anche un po' a vedere perché a fine settimana c'è meno trading volume e chiaramente staremo a vedere un po' come aprirà il mercato americano lunedì. Comunque Ethereum, prossimi target, abbiamo i 4.000 psicologici, poi prossimo ai giornaliero 4.100 qualcosa e poi abbiamo l'olta e mai. Poi ovviamente ci sono molte resistenze nel mezzo, però il target che io sto puntando sono i 5.000 psicologici. Se andiamo a vedere per se Ethereum contro Bitcoin rimane comunque ancora molto debole e dobbiamo andare a cambiare il trend sulla settimana. Cioè dobbiamo almeno tornare in queste zone e riprendere il trend a favore di Ethereum contro Bitcoin. Per vedere sovra performare Ethereum e chiaramente questi ETF potrebbero permettere ciò. Se andiamo a vedere altre altcoin che mi avete segnalato, Solana che comunque rimane ancora molto molto forte. Cioè Solana è uno di quei nomi che se Bitcoin vengono l'olta e mai potrebbe andare a rompere il B210 e continuare a salire. E secondo me potrebbe andare a testare l'olta e mai del B260 Solana. Questo è il prossimo target per Solana secondo me. Potrebbe avvenire ciò. Non sono sicuro al 100% però rimane in gioco quel target. Ada Cardano, nome molto molto debole che voi mi avete chiesto. Chiaramente per ADA abbiamo già crociato l'EMA 12.26 a ribasso della settimana. Ci stiamo stringendo. Ada Cardano è uno di quei nomi molto molto deboli e quindi non sta seguendo il mercato. Diciamo che questi progetti che vanno male lato price action non vanno a beneficiare di nulla. Perché quando sale tutto salgono poco. Quando scende tutto perdono livelli importanti. Chi è rimasto in Ada Cardano sicuramente non è soddisfatto. Andiamo a vedere progetti nuovi come Pendle che sta andando a printare un altro all time I. perché manca poco per rompere 7.5. Nome molto forte, ha recuperato molto molto bene. Ondo, altro nome nuovo che sta andando molto molto bene. Ovviamente non abbiamo molto storico per questi progetti. Però vedete che progetti con nuove narrative che poi magari verranno dimenticati. Però comunque quando escono nuovi progetti con buone fondamentali. Vedete che c'è molto molto interesse anche lato price action. Andiamo a vedere Unic. Perché ha salito molto in queste giornate. E ha recuperato il trend sul giorno. Quindi tutto sommato rimane ancora debole su larga scala. Se andiamo a vederlo sul mensile. Ovviamente andare a testare l'olte mai è impossibile. Però secondo me possiamo tornare anche in zona 12-14. Queste zone possiamo andarle a testare. Qua c'è stata molta volatilità. Però ha ridato molto della corsa indietro. Diciamo che c'è un po' di clima selvaggio. Per quanto riguarda intelligenza artificiale. FET rimane un nome comunque molto forte. Che secondo me se Bitcoin non ve l'olte mai. Con la storia di Ethereum degli ETF. Se Ethereum recupera può andare anche a rompere 3.5. Può andare verso i 4. Non sono sicuro al 100% però potrebbe. Perché comunque il sentimento è cambiato. Se andiamo a vedere per esempio Link. Rimane ancora abbastanza debole. Quindi anche qui non c'è moltissimo da dire. Poi se andiamo a vedere Pepe. Continua a printare oltremai su oltremai. E la narrativa delle meme coin. Continua ad andare avanti. Chiaramente i progetti meme non hanno uno scopo specifico. E le persone secondo me non gli danno molta importanza. Buttano un cippino. E chiaramente si dimenticano quei soldi. E se va bene va bene. Chiaramente un progetto con una struttura. Uno gli dà molto molto peso. E secondo me anche per quello non è semplice. Le persone diciamo che il mercato vuole questo. La meme mania continua. E finché ce n'è. Meglio così. Io non sono fan delle meme coin. Però questo è il mercato. Chiaramente non possiamo andare contro il mercato. Diciamo che abbiamo detto un po' tutto in questa giornata. Mi raccomando di dare un occhio a tutti i link in descrizione. Perché troverete tutti i migliori trading bonus sul mercato. Ma anche tutti i nostri social. Dove potete sempre rimanere sul pezzo. Con ciò vi saluto, vi abbraccio. Ci vediamo settimana prossima. Al prossimo cripto appuntamento.